...di case borose, dove si vive sempre la vita nel medesimo giorno, giorno fatto di fatica, di pane consumato sui campi, incafanti, barrocci e di pochi divertimenti. ...e chiudo gli occhi, mi chiedo tra i campi ricogliosi, campi illuminati dal sole, tempestati di rosseggianti papali, non ancora mi utilizza dei figli che si distendono in magiche onde di luce. La battitura era una tradizione che si ripeteva sempre uguale, ma per tutti aveva un sapore diverso, per me aveva il sapore del pane. Tanta fatica era ripagata dal profumo fragante che usciva dal forno. La foto più bella è proprio quella. La mia famiglia e alcune persone che non conosco posano vicino al mazzo di pietra marina. Sullo sfondo piante secolari, talvolta millenaria, premeggiano tra i botti che si estendevano da artimino lungo tutta la cresta del monte albano. A dei tratto, i ricordi si interrompe, quei ricordi si spegnono e si riaccendono le fiamme di un devastante incendio. Questa terra, che sempre si aveva permesso di vivere, si rivellò, richiamando a sé il diritto di evitere, renegando l'incuria della quale era caduta. Si scosse una notte... La mia famiglia è stata 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 una notte... Prima di lasciarti pensando a te, mentre la tua mano stringeva forte il mio dito, ho scritto questi ultimi versi, sperando che un giorno tu mi leggerai. Modella questi canti come voi, venite al mondo in un pugno di case tra gente povera e buona, felice di niente, e come loro non cerchi aspetti, forse che si riapra un libro chiuso troppo presto. Prima di lasciarti pensando a te, mentre la tua mano stringeva forte il mio dito, ho scritto questi ultimi versi, sperando che un giorno tu mi leggerai. Prima di lasciarti pensando a te, mentre la tua mano stringeva forte il mio dito, ho scritto questi ultimi versi, sperando che un giorno tu mi leggerai. Prima di lasciarti pensando a te, mentre la tua mano stringeva forte il mio dito, ho scritto questi ultimi versi, sperando che un giorno tu mi leggerai. Grazie a tutti.